Start, 2, 1, Mystery Mission, and Liftoff! Per la sua grafica, per la sua ambientazione, più in linea con le mie preferenze, infatti qua ci troviamo di fronte più a un'ambientazione alla Diablo, quindi Dark. È un gioco che è uscito in L.D. Access comunque a maggio 2023, resterà penso guardando le tempistiche promesse ancora un 6 mesi, comunque uscirà entro l'anno, e la particolarità, vabbè, le partite sono di 30 minuti, cioè dovete sopravvivere 30 minuti, ci sono 5 livelli con ambientazioni uniche, ci sono 11 classi sbloccabili, ci sono svariate benedizioni, una ventina, più di 60 oggetti da sbloccare, varianti degli oggetti sono un centinaio, sto leggendo praticamente da Steam, hai 72 abilità diverse, 30 manufatti, più di 30 boss, più di 50 mostri, più di 300 missioni da portare a termine e 900 tratti per potenziare i personaggi, quindi direi che di carne al fuoco ce n'è. Io ho giocato 22 minuti, quindi mi mancavano 8 minuti a concludere la prima avventura, e ho sbloccato il Lacera, che selezionerò e giocherò in questo caso. Vedete che poi abbiamo la possibilità di vedere le missioni, quindi praticamente sono missioni che vanno a sbloccarsi man mano, e vedete che abbiamo un progresso, cioè dobbiamo fare, uccidere 50.000 ectoplasmi e quando l'avremmo fatto, ne ho uccisi solo 630, otterrò gli stivali fangosi. E così via, 500 monete se uccidiamo 5.000 nemici in una partita, qua invece dobbiamo 750.000 di danno con scariche di fulmini e otterremo un tratto, intensità e cariche, quindi insomma di cose ce ne sono. Qua abbiamo il registro degli antri, quindi abbiamo le caverne infestate, le terre roventi, abbiamo vari livelli da sbloccare, possiamo scegliere la nostra destinazione, e qua abbiamo le benedizioni, cioè possiamo spendere le monete accumulate per avere dei perk permanenti. quindi potremmo fare, aumentare il raggio d'attacco, potremmo aumentare il raggio di raccolta in modo permanente, il movimento che è molto utile, e più 6% dell'aria proiettile, ho già speso quasi praticamente quasi tutto, e possiamo andare a fare questa, le caverne infestate. Iniziamo, abbiamo la possibilità appunto di muoverci con WSD, e cliccando con il destro, disattiviamo, vedete qua, il colpo automatico, e ricliccando invece lo attiviamo. Infatti la barra sulla sinistra, scusate, è la barra di livellamento, cioè quanto noi livelliamo, ovviamente adesso qui dovremmo andare a prendere tutte queste cose che abbiamo raccolto, abbiamo livellato, e qua, esattamente come già visto in Vampire Survivor, possiamo scegliere che cosa andare a potenziare. Inoltre il gioco ha un'integrazione con Twitch, che ne potrebbe favorire anche lo stream, cioè praticamente abbiamo la possibilità con la chat di far decidere agli utenti che cosa potenziare. Il problema, se il problema lo vogliamo chiamare, è che se in chat c'è gente che vuole godersi il video, e non partecipare, non avere la tastiera davanti, avreste, avrei più che altro una partecipazione zero. Ho subito anche il mio primo danno, ovviamente qua, sulla mappa vedete che sono, intanto sto, aumento probabilità di critico, aumento danno, vedete che qua c'è questo indicatore qui che mi dice vai lì che c'è qualcosa, ed è, e siamo comunque portati ad andare nelle zone che ci consiglia il gioco. Tra l'altro, cambiando zona, cambia un pochino il bioma e cambiano anche i nemici, infatti qua vedete che iniziano ad esserci i nemici con lo scudo, scudo che comunque potete bypassare. Tenete conto che alla fine della mia run scorsa, dove sono morto, facevo un botto di danno. Qua intanto vedete in basso, sulla destra, le monete accumulate, i nemici uccisi e il tempo rimanente di questa partita. Proveremo a portarla a termine, anche se sarà molto difficile, vediamo come va. È uno dei gameplay più semplici da fare questo, perché bisogna solo giocare, bisogna solo sopravvivere. È un'autentica daroga, perché comunque dite entro, voglio completare quella missione, voglio completare quel perk. Cioè è un tipo di passatempo che comunque può darvi soddisfazione per l'ambientazione, per la pianificazione tattica, perché comunque dovete capire un attimino come non trovarvi in brutte situazioni. Infatti devo andare a recuperare questo, io adesso mi sono creato un bel pertugio, facendo attenzione. Ok, adesso sono messo molto bene, perché velocità d'attacco più velocità di movimento. Ok, vedete che... Ecco, questi sono gli ectoplasmi. Ho una difficoltà a pronunciare certe parole che... Allora, questi sono gli ectoplasmi e vedete io adesso potrei continuare ad andare giù, ma ne approfitto finché posso, finché non mi circondano, per ucciderne un po' perché fa parte di quella missione. Questo dovrebbe già essere un piccolo boss. Perché lo vedete con l'aura azzurra. Tanto ne approfitto per andare anche alle spalle di queste casse e magari a recuperare degli oggettini. Infatti qua mi sono curato, dovrei aver riportato la vita al massimo, sì. Vorrei uccidere questo. Intanto devo fare anche attenzione a dove mi muovo perché potrei incappare in mostri anche alle spalle e quello non sarebbe una cosa piacevole. A un certo punto però, i si riusciranno, non so cosa succede, si prendono degli oggetti che praticamente attirano tutti i frammenti lasciati di esperienza sulla mappa e vi faranno fare 5-6 livelli in un botto solo. Questo andiamo a prenderlo ed è un'abilità. Sfera dell'astronomo, scariche di fulmini. Io prendo le scariche di fulmini perché c'era anche una missione che richiedeva di fare un tot di danno con i fulmini. Quindi noi continuiamo con il nostro arco. Più 20 critico extra. Le prendo così a sentimento. Vedete che continuiamo a fare i danni che dobbiamo. Intanto abbiamo un sacco di esperienza da prendere qua intorno che avevo lasciato da parte. E continuerei a recarmi verso quell'abilità lì. Più 30 salute base. Dai, dammi un po' più di salute che potrebbe servirmi. Continuo a prendere roba. Intanto continuiamo anche col danno da fulmine che tutto fa brodo. Ovviamente il gioco non dovrebbe, credo... Intanto vedete che qua, metto in pausa, vedete che abbiamo... Troveremo l'occupaggiamento da mettere, i tratti e le abilità che abbiamo al momento, le impostazioni di gioco e la possibilità di abbandonare. Quindi in pratica... E le missioni. Possiamo vedere come stiamo andando avanti con le missioni. 5.000 nemici in una partita, no? 7... Sfere dell'astronoma non le ho prese. Uccidere 50.000 ectoplasmi ne ho uccisi 200. Quindi diciamo che è una cosa da fare sul lunghissimo periodo, quella degli ectoplasmi, perché uccidere 50.000 in una partita la vedo dura, dal momento che si uccidono 2-3.000 nemici a run, più o meno, mediamente, quindi uccidere 50.000 è una cosa che richiederà parecchio tempo. Intanto continuiamo ad avanzare. Intanto la situazione è favorevole, perché ho pochi nemici davanti, posso approfittarne per fare un po' di esperienza. E poi succedono anche queste cose, cioè arrivano le ondate, mi prendo... Agilità, cammino più veloce. Vedete che qua devo abbattere questi e uscirne, perché qui rischiano di fare il quadrato intorno a voi e mettervi in una brutta situazione. Comunque, intanto continuiamo ad avanzare. Lo faccio in modo un po', a dire la verità, anche azzardato, perché mi stavano circondando. Devo continuare a raggiungere i nemici là. Nelle casse c'è possibilità di trovare anche delle cure, o dei soldi. Devo prendere qualcosa che mi fa... Uuuuuh... Ma... Ho messo malissimo qua. Ecco, vedete, rispetto alla prima run che ho fatto, la sto prendendo molto più di fretta e questo è male, molto male. Più tra difesa base, così almeno mi difendo un po' di più. Adesso stanno arrivando più o meno su tutte le direzioni, bisogna essere anche piuttosto veloci. Perché poi le cure non ce ne sono. E il nemico attacca dove voi puntate. Per 5 euro il gioco è assolutamente meritato. Cioè, i 5 euro sono assolutamente meritati, voglio dire questo. Ok, questi sono diavoletti. Sta prendendo fuoco. Non vorrei arrivarsi un altro boss adesso. Ok, siamo arrivati, perché praticamente vedo che la disposizione... Ok, eccola lì. L'abilità. Vediamo che abilità abbiamo. Uuuuh, c'è un boss, c'è un boss. Prendo... Allora, schiaggia arcane, sfera dell'astronomo. Sì, che è un altro obiettivo anche questo, di missioni. Vedete che lancia le sfere dell'astronomo che colpiscono i nemici e gli fanno danno. Ora, a breve, dovrebbe comparire sulla mappa, sui bordi, un altro oggetto da recuperare. Anche se probabilmente recupereremo un altro oggetto, un'altra abilità, anche uccidendo questo boss qui. È dura addirittura adesso. Vedete che questo qui, questo è un boss un po' più serio, perché vi lancia... Ho anche recuperato un po' di vita. Queste sfere viola sono quelle, è un attacco telegrafato. Cioè, praticamente, abbiamo in anteprima dove avverrà l'attacco. E questo occorre anche abbastanza. Quindi, dovrei tornare indietro. Quello là è morto prima. Ok, più trenta salute base. Che mi do un po' più di... Sì, è morto quello di prima, ma non so dove, quindi non so se abbia lasciato a terra qualche oggetto. Comunque questo qua sembra un boss ancora peggio di volo di prima. Ok, non ce ne sono tanti qua. Più che altro non ci sono alle spalle, quindi... Uh, via, 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 via. E poi, in base a quello che mi sta accadendo in quel momento, se dovessi livellare, sceglierei qualcosa di più. In questo momento io probabilmente sceglierei più velocità, perché i nemici mi stanno incalzando abbastanza. Nel senso che questo qui mi sta lanciando comunque anche delle cose abbastanza... che mi circondano, insomma, quindi adesso lancia questo, poi lancia questo, quindi comunque è quasi andato. Ho avuto anche la fortuna di tornare qui, dove c'era un po' di esperienza, un po' di soldi, quindi me li prendo. E adesso questo qua a breve cadrà, quindi quando cadrà voglio prendere quello che lascerà cadere, che... ho preso. Posso scegliere uno di questi. Corte animali più difesa di base, più salute. Ogni 15 secondi evoca uno scheletro che combatte per time. i demoni muovono in un certo periodo. Bello, anche questo, prendo questo. E continuiamo. E adesso aumento di livello, quindi posso fare più 6% di velocità di attacco. Ok. Quindi evocchiamo ogni 15 secondi in automatico uno scheletro che combatterà per noi. Non so se sia quello lì bianco, ma penso di sì. Intanto siamo a 22 minuti, quindi... qua c'è qualcosa. Ho preso anche questo. Ok. Il gioco era in italiano, non era in italiano prima, ma non è ancora tutto completamente tradotto, perché... Proviamo anche queste. Adesso, vedete che qua in alto è comparso qualcosa, quindi andiamo. Può essere facile confondere queste sfere che girano intorno come qualcosa di cattivo, ma in realtà sono le nostre. Bello il fatto che comunque quando colpite quelli con gli scudi mollano lo scudo e si ritrovano senza. Comunque dobbiamo andare abbastanza rapidi. intanto ho ucciso 1200 nemici, quindi pensare di uccidere 50.000 ectoplasmi solo in un'unica partita è assolutamente improponibile. E qua si stanno un po' facendo fitti i mostri. Credo sia rilassante anche da vedere. Comunque. E vi fa venire voglia di giocare. giochi di questo tipo ne sono usciti una valangata. Ma credo che questo tra quelli che ho visto sia uno dei più intriganti, soprattutto perché mi piace l'ambientazione un po' sullo stile del primo diablo. Quanti sono? Spero non arrivi un boss adesso perché devo prendere il momento giusto. Ok. Sì, poi bene o male magari riusciamo un pochino a diluirli a sfruttare gli spazi per passare tipo in questo caso faccio abbastanza danno da riuscire magari a creare un pertugio nello schieramento anche se in realtà non... Boia! Quanti sono! Adesso iniziano ad arrivare anche i maghi. Ho livellato. Mi servirebbe qualcosa più 20% di raccolta così raccolgo più oggetti da lontano. Mamma mia quanti sono? Quanti sono? Quanti sono? Boah! Ho fatto una cosa che non andrebbe fatta cioè passare attraverso e prendermi danno però avevo tanta vita quindi quindi l'ho fatto. Non riesco a raggiungere quella zona lì quello lì dovrebbe essere un oggetto se non ricordo male. ok abbiamo liberato un po' tornano gli ectoplasmi un po' più grandi adesso e i maghi i maghi che iniziavano ad esserci anche un attimo fa questo è il primo livello che avete la prima ambientazione che avete quando iniziate poi io avevo avete visto che avevo un'altra ambientazione che ho sbloccato probabilmente dopo la prima run non so cosa succede se finite i 30 minuti cioè vincete la partita certo però io spero non si vincano tanto presto perché è vero basta un po' di però eccola questo non so cosa ho preso ah ok è quello che vi dicevo non è un oggetto ma vi prende tutta l'esperienza che avete lasciato in giro quindi più 10% raggio sì ma questo è senza fine perché continua un sacco di soldi l'impeto non so cosa sia faccio danno danno voglio far danno vedete che all'inizio facevo 130 danni adesso faccio 200 velocità di attacco e ho raggiunto i 6 metri al secondo che sono una velocità mai raggiunta infatti ho preso l'achievement più 10% recupero più 10% salute ok sì non continuerà per sempre sta cosa però intanto continuo a potenziare i danni più 6% velocità di attacco mamma mia facciamo un livello più 10% critico pluricolpo 240 danni facciamo ok è finita ho livello 21 livello 21 18 minuti alla fine non bisogna avere fretta bisogna andare avanti cercando un nuovo obiettivo da raggiungere ah infatti ah ok l'ho selezionata non l'avevo vista ero troppo preso ho selezionato la missione infatti mi viene mostrato in alto quanto mi manca nel raggiungimento di quell'obiettivo lì dei 50.000 qui vedete che siamo a 1000 ne stiamo uccidendo adesso però intanto aspettiamo intanto vado qui prendo un po' di esperienza e un po' di soldi ok altro livello più 10% di raggio facciamo un buon danno per distribuire subito le casse che è una cosa buona stanno arrivando altri mostri adesso ci stanno circondando devo trovare sto aspettando qualche altro indicatore sulla mappa di direzioni dove andare per prendere oggetti ma mi sa che bisogna aspettare un po' andiamo per andarcene credo perché si ovviamente poi diventerà un inferno gli ultimi minuti adesso siamo praticamente a metà a metà della partita perché siamo 17 minuti un po' meno di metà e ce la stiamo cavando un po' male adesso perché abbiamo quasi finito la vita più 20 di danni facciamo sempre più danno sempre più danno però abbiamo sempre meno vita e se non trovo qualche cura finisce malissimo vorrei arrivare almeno 15 minuti giusto per fare metà partita per ve ne vedete la metà ok benvenuto al boss che è arrivato adesso cerchiamo di sfoltire ma poi la cosa tattica è che appunto comunque l'attacco base quello del in questo caso dell'arco attacca nella direzione dove puntate col mouse quindi diventa molto tattica la cosa vediamo qua se c'è qualche cura no eh no siamo partita in tre andati è finita è quasi finita resisti ma è quasi finita e abbiamo 37 punti vita ne stiamo un pelino recuperando ma musica sotto non ci si fa molto caso perché siamo presi ma è molto carina con questo organo qua è così finita oh due adesso due boss è finita va bene livello 24 avevo finito a tattarmi un'altra volta morti 2000 milioni di danni monete totali 1700 torna al campo prossima missione principale entra nelle terre 20 e porta in salvo il custode del pozzo sblocca il custode del pozzo quindi ho semplicemente rifatto qualcosa che avevo già fatto come ambientazione perché in realtà ora dovremmo andare con l'arcere o con l'altro che abbiamo lo spadaccino qua nelle no nelle terre 20 e salvare un altro dei personaggi che diventeranno il nostro un altro personaggio selezionabile all'inizio allora il gioco è veramente molto intrigante la musica fa tanto perché è molto bella costa 5 euro insomma fate voi fatemi sapere che cosa ne pensate sotto nei commenti come sempre e alla prossima ciao 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 ciao